Ultimamente giochi belli, giochi che ti appassionano, scarseggiano, giochi che ti fanno restare incollato allo schermo, che ti ricordi nel tempo, è difficile trovarli, soprattutto da quello che si parla e si dice in giro. E allora a questo punto, in virtù soprattutto anche della mia opinione che vi ho lasciato su Dragon Age, molti si sono chiesti ma allora conviene giocare un gioco che non ti piace o bisogna giocare soltanto ai giochi che apparentemente possano stimolarci? Magari un gioco se non ci stimola che facciamo? Non lo giochiamo? Io vi dico di sì e vi racconto una storia, lo sapete cerco sempre di trovare una sinergia, un'attitudine, un qualcosa che colleghi un avvenimento mio che è accaduto con me con un fatto. E questa cosa mi ha colpito e ci tenevo a raccontarvi quello che mi è successo tanti anni fa. Naturalmente dico sì, giocare un gioco anche se non vi piace, economicamente parlando, mettiamolo a tutto questo punto di vista. Se ve lo regalano, conviene giocare un gioco che non vi piace? Se ve lo regalano o magari se ve lo prestano, ecco, è giusto se ve lo prestano? Io vi dico di sì e vi dico che cosa mi successe tanti anni fa. Nel 2008 tutto iniziò precisamente perché fu l'uscita di Fallout 3. Tenete presente che per me era un gioco con tutte le caratteristiche, Xbox 360 se ricordo bene, faceva parte del classico gioco Fallout 3 che io avrei adorato su carta, 100-100. Normale, tenete presente che all'epoca uscì una sorta di valigetta. Io compravi proprio questa valigetta, piccolina così, presi anche tanto, un sacco di soldi e la compravi. Andai a comprare da GameStop al lancio, feci tutta una traversata tremenda per comprarlo e lo iniziai a giocare. Ricordo che lo iniziai a giocare tre volte, non riuscivo a giocarlo. Non riuscivo veramente a giocarlo, non riuscivo ad appassionarmi. Una volta uscito dal vault, non ci riuscivo a giocare, non mi appassionava. Tant'è che lo vendetti. All'epoca poi ero con, stavo con una ragazza, non la mia attuale moglie, che non che mi spinse, però mi disse ma è spesa tutti questi soldi. Lei faceva parte della Corriere delle donne che non amano i giochi, trovano infantili chi gioca ai videogiochi. E mi disse, hai speso tutti questi soldi, hai buttato tutti questi soldi, ma perché non te lo vendi sto gioco? Magari sei ancora in tempo, recuperi qualcosa di soldi, ci fai qualcosa di più interessante. Stupidamente, dico stupidamente, io il gioco, quella valgetta l'ho venduta, la vendetti su ebay, gli feci fare pure un affare a quello che lo vendetti. Lasciamo perdere. A distanza poi di tanti anni, mi ritrovai da Blockbuster. In offerta, Fallout 3, gioco dell'anno, 14,99 euro. Ero con la mia attuale fidanzata di quell'epoca, attuale moglie praticamente, i casi della vita. Allora, presi Fallout 3 in mano e dissi, questo è un grande gioco. Mia moglie attuale disse, perché non te lo compri? Ma non lo so, io lo giocai, non mi piaceva, eppure è un gioco bello, mi piace, mi piace. Comunque, lo comprai e lo portai a casa. Morale della favola, Fallout 3 fa parte della categoria, della classifica dei miei giochi preferiti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che magari, è normale che, non mi sto dicendo, che se vi fanno cacare i giochi di calcio, compratevi i giochi di calcio. No. Una certa attitudine ci deve essere. Cioè, se vi fanno schifo i GDR, non avete speranze per niente. Se vi fanno schifo i simulatori di guida, se siete imbranati nei simulatori di guida, come lo è il sottoscritto, vi posso assicurare che ne potete provare pure un miliardo ma sempre una chiave che siete. Cioè, io veramente credo di averne provati tantissimi. Il livello mio è sempre basso, non lo so perché. C'è proprio... Vabbè, lasciamo stare. Penso che l'avete anche capito negli anni. Vuol dire che magari, se un gioco mi può appassionare, magari non è quello il momento giusto, non è quella la situazione giusta, magari in quel periodo, come era capitato a me, mi trovo in una situazione strana, una situazione sentimentale anche un po' particolare. Quindi avevo voglia di giocare ma non avevo voglia. Non era il gioco giusto in quel momento giusto. Però comunque era un gioco che mi sarebbe comunque piaciuto. Per cui, secondo me, se qualcosa vi spinge ad acquistare un gioco, sempre economicamente parlando, e avete una sensazione per ciò che riguarda un gioco che è negativa, ma che magari un pochettino vi ispira, accantonatela un momento, che magari poi vi conviene pure, perché magari poi fate aspettare un po' di tempo e lo trovate anche in offerta. Grazie a tutti!